Qua è finta? Qua è finta? Ma faccio un altro, vai, per i figli che non ci crederanno mai. Non ci crederanno mai a vederlo col badile. Quante super striche ci sono in una foglia di giro? Sindaco, si metta dietro l'albero che si prende anche lei. Grazie, grazie. È abbastanza. Adesso va anche a Flavio, deve buttare la sua donna. E ci siamo portati anche l'aiutante. E ormai... L'abbiamo messa al lavoro. Noi si cavallate o mai, accarizza la terra. Vengo dietro, io ti porti, allora se lo sento lì. Anche l'assessore non si è lì. Ok, il modello matematico è che ci applichiamo come te. Nell'ottimo terrizio però abbiamo... Eh, sì, questo è vero. Ma chi ha... Ma chi ha... Ma avete visto? Ehi, ma chi ha... Tu hai lavorato con Lebowitz? No. Non lo so. Benasli. Con chi? Benasli. Grazie.